La prevenzione è importantissima perché è un po' la motivazione che ha dato avvio a questa brochure di buone pratiche per gli incendi di interfaccia. Perché si tratta di indicare ai cittadini quelle che sono le indicazioni assolutamente da eseguire, quelli che sono i comportamenti da evitare, i numeri di emergenza da chiamare nell'immediatezza per fare in modo che poi non si propaghi ulteriormente l'incendio con danni gravissimi anche per il nostro ecosistema. Quindi l'importante è davvero aver fatto, formalizzato questo brochure insieme a Lanci che ancora una volta dimostra quanto noi siamo collegati ai comuni perché come dico io il Ministero dell'Interno è la casa dei comuni e insieme, soltanto facendo squadra, possiamo far fronte anche a un fenomeno così tragico come quello degli incendi boschivi.